Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Clamoroso colpo di fortuna alla tabaccheria Pirani di Viale della Vittoria a due passi dal Cavalcavia, dove grazie a un gratte vinci della serie numerissimi sono stati vinti 500.000 euro. Con la modica spesa di 5 euro, il fortunatissimo ha grattato 4 numeri da sogno, 28, 58, 59 e 48. La scoperta è avvenuta in maniera insolita al ritorno al lavoro dopo un periodo di ferie, come ci racconta il titolare della tabaccheria che, diversi giorni prima della comunicazione della vincita, all'apertura della serranda, aveva notato che qualcuno aveva infilato una fotocopia che riproduceva il grattino vincente con tanto d'importo. Insomma, non era uno scherzo, nonostante una possibilità su 7.700.000. Ho avuto questa fotocopia sotto la serranda, una fotocopia di un miglietto a 5 euro numerissimi e una vincita di 500.000 euro. Un attimo sono rimasto stupefatto perché è una vincita così importante, un primo premio, sembra impossibile. C'è una possibilità su 7.700.000, infatti. Allora ho messo in vetrina, ho fatto un po' di pubblicità, però stavo sempre un po' attento perché può cambiare anche degli scherzi. Si può trovare benissimo una fotocopia così, con una cifra messa lì, che non corrisponde al vero. Il settore, siccome ho messo la fotocopia, penso che sia una persona di Iesi, ma altro non c'è nessuna indicazione. La tabaccheria Pirani non è nuova a vincite importanti. L'estrazione della Lotteria Italia dello scorso gennaio l'aveva infatti premiata con un biglietto da 50.000 euro. E poi a gennaio mi è capitata anche un'altra vincita della Lotteria Italia, seconda categoria, premio 50.000 euro. Nelle marche, di solito non è che si vince tanto questo gioco, però è andata bene perché ci sono state tutte le marche, 4 da 20.000 e 1 da 50.000. Fortunatamente 1 da 50.000 è capitato proprio qui da me. Grazie a tutti.